Ciao, mi chiamo Andrà Zanchi, tecnico informatico a Grumello del Monte, Fondazione Icanos. Voglio fare l'investitore, il mio lavoro per T.A. documentaris e videomaker e montatore. Abbastanza dai, perchè devo stabilitare, quindi abbastanza, sì, iniziamo. Premier Pro CC 2020, Bluetooth Air MSI, Samsung S20, se la giocano il gatto e il cane, però il gatto che è il cane è un rompigetto, perchè abbaglio sempre, quindi il gatto. No, va bene così. Il mio documentario preferito è quello che eravamo ai tonolini e ai laghi ghiacciati. Fauna delle Alpe. Grazie a tutti. Grazie a tutti.